mamma mia ragazzi miei che profumo che c'è preparato gildarena ma vedeva ora qui sono facottini ripieni di formaggi misti e prosciutto con mamma mia che poi ho fatto delle patate al forno con delle spuntature di maiale belle magre magre poi qui ho fatti carciofi alla romana vedete mamma mia raga e qui coscetto da bacchia la cacciatura perché a noi ci piace la cacciatura guardate che ecco qua questo è il nostro pranzetto il nostro pranzo di natale ragazzi semplice e buono mamma mia un bacio a tutti e buon natale a tutti e piatto ricco micifico un bacio grande a tutti dalla cucina di gilda arriviamo tutti dove se ficcano qua do coi o coi o mamma mia ti piace un bacetto ciao amori vi amo tutti è sempre con il cuore